Piano piano si sta assottigliando sempre di più il tempo per il programma del Serale di Amici, quindi il programma di Maria De Filippi che piano piano volge con molta calma e sangue freddo verso il termine. Ma Maria De Filippi incassa nel frattempo le critiche di un ex insegnante o almeno così sembrerebbe. Allora, per il Detention non è sicuramente un momento al top sommerso dalle critiche dopo l'esclusione da parte di Ramon. Sui social in particolare il pubblico si era un attimino scatenato, del tipo è stato detto, eh ma non vi meritate l'eccellenza di Ramon ma l'autotune di Vax e le lacrime di Cricca e Maddalena quello sì. Il vero talento scurato durante l'intero serale per dare spazio a sfide inutili che non valorizzano proprio il talento. E ancora, mai una sfida di versatilità, tutti i talenti stanno andando a casa. Caro Ramon, fuori hanno riconosciuto il tuo talento e sei stato premiato con un contratto. Lasciamo quelle esibizioni di ototune e coreografie, sexy, che non valorizzano il talento a mal gioio. Ora una nuova stoccata sembra arrivare da uno il cui parere conta. Si tratta di Steve Lashans che margine di un video nel quale ricorda le prove di Giulia Ottonello e Ambetato Romani, ha scritto, bei tempi. Si lavorava così tempo fa. Si lavorava tantissimo per un risultato di tantissimi emozioni. Dovunque e comunque. Viva la danza. Parole nelle quali molti hanno visto il motivo che l'hanno portato a lasciare la scuola, oltre ad un cambiamento nel DNA del programma. Sempre meno concentrato sul talento. Focalizzato sulle discussioni tra i ragazzi piuttosto che sulla loro crescita. Steve Lashans non è stato mai troppo tenero. Lo scorso anno, per esempio, aveva preso di mira la maestra Celentano e di suoi metodi di insegnamento. Essere insegnante è una passione che crea danzatori. Formare ballerini dando loro le proprie conoscenze e facendo lavorare i ragazzi in modo sereno e tranquillo non è da tutti, purtroppo. Coreografare con danzatori già formati è facile. La danza è disciplina ma anche amore. Poi in un momento così difficile bisognerebbe dare tanta serenità e tranquillità. Così prima di aggiungere, e insisto, certe persone non devono insegnare ai giovani in crescita. Che dispiacere vedendo certe situazioni. Comunque e ovunque viva la danza. Parole che non lasciavano dubbi sulla sua reale opinione in merito ai metodi educativi di Alessandra Celentano. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.